Oggi ci sono diversi tipi di chemioterapici, non tutti provocano la caduta dei capelli. C'è da dire una cosa, che soprattutto nel tumore della mammella, soprattutto laddove venga utilizzata la chemioterapia in fase preoperatoria o dopo l'intervento chirurgico, per ridurre la probabilità che ci sia una micro disseminazione di cellule, quindi la possibilità di comparsa di metastasi dopo, quindi quella che viene detta chemioterapia preventiva. Questi tipi di chemioterapia di solito in una grossa percentuale dei casi provocano la caduta dei capelli. Perché cadono i capelli? Perché ci sono gli effetti collaterali fondamentalmente della chemioterapia. La chemioterapia agisce uccidendo, danneggiando le cellule proliferanti e quindi in questo senso va ad agire su eventuali cellule malate che siano presenti. Purtroppo non riesce a distinguere le cellule malate e proliferanti dalle cellule sane e proliferanti. Noi adulti fortunatamente abbiamo poche cellule proliferanti nel nostro organismo, ma tant'è quelle che abbiamo sono il motivo per cui ci sono gli effetti collaterali della chemioterapia. In particolare le cellule proliferanti del follicolo pilifero danno ragione del motivo per cui si ha l'alopecia, si ha la caduta dei capelli, così come il danneggiamento delle cellule delle mucose, che sono molto attive, molto proliferanti, da ragione delle stomatiti, delle mucositi, così come della nausea e del vomito, così come il fatto che venga colpito il midollo. Il midollo è uno dei tessuti più proliferanti del nostro organismo, da ragione dell'abbassamento dei globuli bianchi o dell'emoglobina, a volte anche delle piastrine. Grazie. Grazie.